Gli auguri agli studenti, parte l'anno scolastico in Toscana, gli auguri del Presidente Gianni e del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il nuovo piano rifiuti, la discussione in Consiglio regionale dopo l'intervento dell'Assessore Monni, stop a nuovi termovalorizzatori e nuove discariche. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Dopo la pausa estiva sono ripresi i lavori in aula a Palazzo del Pegaso, prima seduta martedì scorso e a margine della seduta il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il Governatore Eugenio Gianni hanno rivolto i loro auguri agli studenti toscani che questa settimana hanno iniziato l'anno scolastico. Sentiamo. Io penso che il segnale più importante sia che si riparte tutti in presenza, che si riparte cercando di non chiudere più, è questo l'obiettivo che noi abbiamo. Io voglio ringraziare di cuore tutti gli insegnanti per quello che hanno fatto in quest'anno e mezzo difficilissimo, però voglio anche dire che per quanto si siano impegnati la didattica a distanza è comunque una grande forma di disuguaglianza. Non è possibile che ci siano ancora tanti ragazzi che non hanno la connessione o tante famiglie, purtroppo, che non possono permettersi di avere un PC per ciascuno dei propri figli. Allora, il nostro compito è fare in modo che il 5G arrivi dovunque, in tutti i territori della Toscana e che non ci siano più immagini come quel bimbo seduto su un banco a cercare la connessione. Per noi la Toscana e i diritti dei cittadini toscani devono essere uguali, da zeri fino a Firenze e questo è quello su cui dobbiamo lavorare. L'impegno deve essere quello di continuare a investire sempre più nella scuola pubblica e noi faremo la nostra parte e ai ragazzi e alle ragazze gli mando un messaggio. Noi siamo riusciti a ristorare tante categorie in quest'anno e mezzo. Purtroppo non abbiamo la forma per poter ristorarli da quest'anno perso, quest'anno e mezzo di socialità mancata. Ecco, l'impegno verso di loro è che quello che è accaduto non accada più e che i loro sguardi si possano rincontrare di nuovo e quel pezzo di socialità che gli è mancato possa essere recuperato il più velocemente possibile. L'assessore Baccelli e l'assessore Nardini hanno fatto un grande lavoro nei tavoli con la prefettura, le 10 prefetture della Toscana. Domani siamo pronti a raccogliere quello che sarà l'approccio in presenza, totalmente in presenza, salvo delle eccezioni legate magari a lavori o altri aspetti di natura diversa, ma domani è l'approccio della Toscana in presenza alla scuola. Agli studenti faccio un grande in bocca al lupo per quello che sarà la loro attività quest'anno e l'augurio che la didattica in presenza possa allontanare quegli spettri che anche da un punto di vista di condizione sociale, psicologica, individuale sappiamo ha lasciato la DAD e quindi il modo con cui abbiamo dovuto far convivere la scuola con la pandemia. Passiamo adesso ai lavori dell'Aula. Argomento principale nella prima seduta di settembre è stato il piano rifiuti che è stato presentato nelle sue linee generali dall'assessore all'ambiente Monia Monni. In sostanza stop a nuovi termovalorizzatori e nuove discariche, sì a nuovi impianti meno impattanti da realizzare tramite il sistema dell'avviso pubblico. Dopo la discussione in Aula è stata approvata una risoluzione del Partito Democratico a sostegno del piano, respinti invece gli atti presentati dalle opposizioni. Sentiamo. Intanto questo piano vuol agevolare l'obiettivo dell'economia circolare, vale a dire un'economia che si rigenera da sola. Si tratta di una sfida prima di tutto culturale da affrontare con attrezzi nuovi, se così si può dire, che il piano vuol prevedere ma anche recuperando abitudini vecchie che erano quelle dei nostri avi che avevano appunto l'idea di non gettare niente di ciò che poteva essere riutilizzato e continuare ad avere una utilità. Questo piano sarà un piano che dal punto di vista della dotazione impiantistica vorrà utilizzare anche nuove e moderne tecnologie per superare, e la cosa doveva essere anche già avvenuta più di quanto lo è oggi, l'utilizzo delle discariche per limitare al massimo l'utilizzo dei termovalorizzatori, per trovare invece le modalità per cercare di riciclare e di riutilizzare il più possibile di quello che fa parte dei rifiuti. Ovviamente ci sarà anche una modalità nuova, un approccio che rende questo piano assolutamente non di ricista, perché attraverso un bando saranno raccolte anche delle disponibilità, delle proposte provenienti da aziende pubbliche e private per la realizzazione di impianti di smaltimento e di riutilizzo. Ovviamente questo non vuol dire che c'è una cessione nei confronti del cosiddetto mercato, di quella che invece è una modalità e una prerogativa che deve rimanere saldamente in mano alla regia pubblica. Oltre a questo un'attenzione particolare sarà rivolta al tema delle tariffe e per quanto riguarda questo è importante sarà anche vedere quali saranno le risorse che il sistema sarà capace di catturare anche per fare investimenti, per realizzare impianti, insomma per non far gravare la realizzazione dei medesimi sulla tariffa così come invece accadrebbe perché prevede la legge. Occorre anche una forte celerità per quanto riguarda l'approvazione di questo piano, ma occorre anche una forte condivisione con i territori. Noi come Partito Democratico abbiamo nella nostra risoluzione anche sottolineato questo aspetto, collaborazione tra Giunta e Consiglio, ma anche una forte connessione con i territori che dovranno dire la loro, che dovranno fare le proposte, che dovranno anche impegnarsi a garantire un po' l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, che è un principio fortemente ambientale ma anche democratico. Siccome poi la parte più importante sarà l'atterraggio, vale a dire l'attuazione del piano, noi crediamo che tutto quello che saprà di condivisione, tutto quello che saprà di collaborazione, tutto quello che starà coerentemente agganciato a quelli che sono gli obiettivi che ci dà il pacchetto dell'Europa del 2018 e che questo piano vuole anche anticipare sarà assolutamente necessario e utile perché poi si possa non solo approvare nella maniera più condivisa il piano ma si possa anche poterlo attuare e dare quindi risposte non soltanto al trattamento dei rifiuti solidi urbani ma anche di quei rifiuti speciali prodotti dalle aziende che oggi magari sono costretti ad andare fuori regione e per le quali invece noi proprio nell'ambito dell'economia circolare vorremmo aiutare a chiudere il ciclo e quindi anche a diminuire i costi e quindi avere aziende maggiormente competitive. Intanto siamo in ritardo di più di qualche anno, scorsa legislatura abbiamo aspettato per cinque anni il piano rifiuti e non è arrivato, siamo indietro su tutto, sappiamo che siamo la terza regione in Italia per tariffe, quindi i cittadini toscani sono quelli che pagano tra i più alti in Italia il costo dei rifiuti, sappiamo che in questa comunicazione si dice tanti no ma non riusciamo a capire come riusciamo a poter superare la fase transitoria che va da oggi a poi cercare di aprire questo mondo del riuso e della rivalorizzazione di quello che è rifiuto e che è giusto iniziare a chiamare materiale e quindi abbiamo qualche dubbio su come si riesca a superare le discariche che è il grande nodo della Toscana, oltre il 30%, il 34% dei rifiuti va in discarica, l'Europa ci dice che dobbiamo rimanere sotto il 10%, ricordo che la discarica è di fatto l'impianto più inquinante e non lo diciamo noi, lo dice la comunità europea e non sappiamo tra questo passaggio e quello dove vuole arrivare l'assessore Monni come si farà ad andare a smaltire i rifiuti. Già oggi noi andiamo a portare tantissimi dei nostri rifiuti urbani fuori dalla regione toscana per smaltirli, questo significa aumento di tariffa, si dice no a nuovi termovalorizzatori, questo lo dice l'assessore, per poi essere contraddetto da una risoluzione del PD che invece dice sì, dove servono vanno riportati e vanno rimodernizzati quelli già esistenti, ecco io credo che ci sia una grande confusione interna al PD. Tra l'altro non si parla di governance che invece è una cosa molto importante perché secondo noi sarebbe il caso di rimettere al centro i comuni, gli amministratori e i cittadini, altrimenti rischiamo di arrivare a fare quello che la Giunta vuole che è quello di accentrare tutto il potere su se stessa e lo sta cercando di fare anche tramite delle proposte di legge che sarebbero poi volte a esautorare il Consiglio delle proprie competenze. Noi abbiamo già detto che su questo non ci stiamo, la programmazione spetta il Consiglio da Statuto e noi pretendiamo che la discussione sia ampia, partecipata il più possibile e che sia anche rivista rispetto alla comunicazione che è arrivata oggi perché pensiamo che troppi siano i dubbi e troppe poche le risposte che arriverebbero sui territori ai nostri cittadini. Ma più che il piano dei rifiuti si tratta di un piano dell'economia circolare, è un'inversione di tendenza positiva che cogliamo con grande favore, che sosteniamo perché siamo convinti che la Toscana debba essere una regione innovativa in temi di rifiuti, non soltanto nella raccolta differenziata. Gli obiettivi che ci si pone sono ambiziosi, quelli dell'85%, qualche comune è già in grado di farlo, quindi sono obiettivi realistici, plausibili, possibili, realizzabili e poi serve riciclo, serve ovviamente riutilizzare la materia, fare economia circolare, colgo un elemento di grande positività, si va verso la chiusura delle discariche e allo stesso tempo verso la possibilità che i privati possano giocare una partita importante dentro una manifestazione pubblica di interesse che deve essere svolta a livello regionale e con procedure semplificate per quanto riguarda anche l'approvazione del prossimo piano dei rifiuti. Quindi vedo in questa comunicazione degli elementi positivi che tra la via sosterrà, monitorerà e soprattutto cercherà di rendersi protagonista per intercettare le risorse comunitarie per fare in modo che poi questo che è orse oggi visto come un libro dei sogni possa diventare realtà. Ma è l'ennesima battaglia nella guerra delle parole, si parla di transizione ecologica, il piano dei rifiuti cambia nome, si chiamerà piano dell'economia circolare, ma nella sostanza non si è capito noi, ma non hanno capito i toscani e le imprese toscane dove dovrebbero andare i rifiuti, come si farà a diminuirne la produzione, come si farà a migliorarne il riciclo e nella fase di transizione rispetto alla creazione dei richiamati, nuovi impianti di quarta generazione, non si è capito bene cosa dovranno essere, che cosa si farà di quella percentuale di rifiuti che non è riciclabile e che quindi dovrebbe in qualche modo essere trasformata in energia. Peraltro si continua a rinviare la chiusura delle discariche, ad oggi la Toscana conferisce ancora il 35% dei rifiuti in discarica, cioè sostanzialmente mette il proprio sporco sottoterra, determinando così un inquinamento ambientale che è purtroppo diffusissimo e soprattutto continuando a non avere un piano dei rifiuti lascia aperte le porte a infiltrazioni anche malavitose, così come è stato certificato dalla Commissione parlamentare sulle infiltrazioni mafiose già nel 2018. Manca una strategia di fondo e soprattutto non ci convince né il tentativo di escludere il Consiglio regionale da tutta la partita della pianificazione degli impianti, né si è capito come si intendano coinvolgere gli enti locali che svolgono invece una funzione fondamentale nel rapporto con i cittadini. Infine i nuovi impianti di quarta generazione si dice, senza specificarne la quantità e l'ubicazione, i costi graveranno ancora sulla tariffa, quindi la Tari con questo fantomatico piano sarà destinata a aumentare nuovamente, mentre in realtà non si danno risposte nell'immediato per i cittadini e per le imprese. La comunicazione è stata estremamente stringata e c'è da dire una cosa in positivo, che la maggior parte dei principi delle linee guida che sono esposti riprendono piedissequamente quello a cinque anni come Movimento 5 Stelle abbiamo sostenuto riguardo l'economia circolare, l'ambiente, il no agli inceneritori, alle discariche, quello che insomma ci chiede l'Europa. E poi ci sono tutti i lati però negativi. Il netto ritardo con cui è arrivata questa comunicazione e sta arrivando il piano rifiuti, perché queste sono ancora soltanto delle linee guida. Il fatto che ancora ci sono dei fumosi e preoccupanti riferimenti ai termovalorizzatori, anzi chiamiamoli inceneritori, così come vengono detto quando si parla di tecnologie alternative con cui fare la fase di transizione e soprattutto non c'è stato detto le metodologie, i dati, i parametri e i risultati da raggiungere e in quanto tempo. Quindi questo a noi sembra ancora purtroppo un libro dei sogni, quando in realtà la Toscana da tempo sta aspettando un piano rifiuti serio che contribuisca davvero alla transizione ecologica, all'economia circolare e soprattutto non secondario ad abbassare le tasse su rifiuti a tutti i cittadini. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e appuntamento tra sette giorni.